Rieccoci nuovamente in studio, allora parliamo del Milan, dei problemi via Inzaghi o via Gagliani, chi preferite? Allora chiediamolo per i nostri ospiti, presidente. Ma scusami, sono preferenze che agli sportivi penso non interessano, anzi l'unica cosa sarebbe per quello che sento gli sportivi che c'è il mio Milano tutti e due e per loro in questo momento il Milan come va è colpa di tutti e due, non danno la colpa solo all'allenatore ma anche Gagliani e quindi la società, quindi sarebbe un repulisti farlo completo, il problema secondo me è l'unico. Marco ultima chance questa sera in Coppa Italia per Inzaghi contro la Lazio? Bisogna intanto vedere come va la partita e come viene condotta, certo che anche lui è sotto pressione, le colpe non sono tutte sue ma sono anche sue, io credo che a mandarlo via adesso durante la stagione non è mai, a parte che la squadra la darebbero a Tassotti, non è che cambia molto, io credo che la soluzione poi è pronta e questa. Si parlava invece di quando affrontare eventuali scelte con spese alla fine di questa stagione, però mi risulta come dicevo prima che è una mossa da parte della società in questo momento un po' di mettere un po' all'angolo Adriano Gagliani che credo che abbia stancato anche i tifosi, perché se mi risulta che c'è un comunicato della curva che dicono al Cavaliere, al Presidente che è ora di cacciare Adriano Gagliani vuol dire che anche lui ne ha combinati un po' più e poi il dualismo in società tra due amministratori delegati, tra società divisa in due non esiste. Questo è stato un errore clamoroso di Berlusconi, diciamo chiaramente, di mettere i due testi a capo della società. Il capo deve essere sempre uno, soprattutto in una situazione come questa. Il signor Braida era l'unico che mi dicevano che calmava molte acque. E poi non ha fatto niente per difendere Braida, mi risulta, anche Gagliani. Sì, anche perché Braida è stato cacciato da Barbara, ricordiamocelo. E però lì non ha fatto niente per difenderlo. Lui non ha fatto niente per difenderlo. Io mi aspettavo qualcosa da Gagliani in difesa di Berlusconi. No, no, non l'ha difeso proprio niente. Stavo dicendo due cose, scusami. Allora, per quanto riguarda l'allenatore, dovesse essere cacciato in Gagliani, vedremo stasera, secondo me lo cacceranno. Dici già stasera dopo la partita. Secondo me le questioni sono due. I candidati sono due. E due, tutti e due, già sotto contratto del Milan. Uno è Tassotti, nel quale però non c'è grande fiducia, diciamo, molto chiaramente, altrimenti sarebbe già stato allenatore in altri anni. Prima cosa. Secondo, attenzione, perché due giorni fa c'è stato un contatto di Berlusconi, che mi sembrerebbe ancora. Beh, sembrerebbe un ritorno un po' clamoroso, però è possibile. Però è possibilissimo, secondo me. Attenzione, questo e questo sarebbe sì, questo qui, un mettere all'angolo Gagliani. Questo sì. Sì, non le mezzucci di tirargli via la carta di credito o roba del genere. Non quelli. Questo sì. Con i risparmi, con il risparmio di soldi. Perché i due non si guardano, perché i due si guardano in Cagnesco. Seconda cosa che volevo dire era il discorso di Gagliani. Gagliani non riesce a metterlo all'angolo. Te l'ho detto prima. Lui sgomita, fa cazzotti e poi lui torna al centro del ring e sono gli altri all'angolo. Qui l'unico modo per mettere all'angolo di Gagliani è cedere la società. Arriva un altro imprenditore, come vuoi, amministratore italiano, straniero, compagnia bella, il quale dice, sapete cosa c'è? Porto qui la mia squadra. Gagliani fuori. Quello è l'unico modo per far fuori i Gagliani dal Milan. Altrimenti i Gagliani non si deveva. E non riesci neanche a metterlo all'angolo. Sergio, invece ti voglio chiedere, questa sera il Milan affronta in Coppa Italia la Lazio, una splendida Lazio che ha fatto benissimo anche in campionato, appunto, sempre contro il Milan con la vittoria per tra uno. È più difficile questa sera per il Milan affrontare questa Lazio? Ma per il Milan è difficile qualsiasi squadra che affronti in questo periodo. Può darsi anche che riesca a fare risultato, perché nel calcio può succedere di tutto. Le sorprese ci sono, però guardando tecnicamente dall'esterno, le due squadre hanno un gioco talmente diverso. Uno come la Lazio, veramente un gioco pulito, brillante, largo, estruoso, che fa anche piacere vederlo. Il Milan è farginoso, c'è qualche spunto personale, qualche scontro indifensivo. Per me poi la difesa è un martirio, dovessi fare l'altore con una difesa così. Posso dire una cosa? Guardatevi quanti gol su azione ha segnato il Milan. Guardateveli tutti. Uno, nella prima partita contro la Lazio. Lancio, non mi ricordo più di chi, ha i charawi. Corsa, palla in mezzo, onda e va dentro. Tutti gli altri sono frutto di individualità. Palle da fermo, cinque calci di rigore. Non c'è proprio l'azione che ti porta il giocatore ad andare in porta. È frutto di individualità. Però diamo i meriti comunque. La Lazio fa un gioco che anche permette all'avversario di giocare bene. Perché la Lazio fa degli spazi che potrebbero inserirsi in qualche bella zona. Se c'è la squadra avversaria che è buona. Certo. Comunque, Marco, possiamo dare i meriti anche a Pioli, che sta trascinando comunque questa squadra. Ti sei un buon allenatore, l'avevo dimostrato anche in una situazione con una squadra che era appunto non certo. Eppure l'ha fatta giocare bene e perciò adesso con un pochino più di materiale umano e di qualche giocatore di un certo valore. Poi non dimentichiamo che ha avuto anche degli infortuni. Adesso l'ultimo di Bjorn che dice, ma c'è fuori Anderson che era uno che era molto, ma molto valido. Era quello che ha fatto golf, faceva giocare la squadra, grandissimo contropiedista, velocità assoluta. Ah, se lo recuperava. Perciò ha fuori anche, avrà fuori due elementi. Vabbè, Anderson credo che lo possa recuperare, l'altro non dico tanto a breve, ma non per, non per, non per, non per, non per, non per l'immediato. Non per l'immediato. Allora, andiamo a parlare invece anche dell'Inter, che appunto abbiamo parlato un po' anche ieri, dopo la sconfitta contro il Torino in casa. Presidente, io qui, una volta precedente, ho detto, mi sono stupito dell'acquisto di due giocatori, Zaghiri e Podoschi, perché sono per me due copie. Due doppioni. Due doppioni. Però ho detto, se Mancio riesce a farli giocare insieme in squadra e farli rendere, veramente è un fenomeno. E questo dimostra che è difficile farli giocare insieme in due, infatti lui non li fa giocare sempre contemporaneamente, li mette a turno. Però ricordiamoci che Podoschi è a fine carriera, anche se non ha un'età molto, ha sempre anche negli ultimi tempi, ha sprazi, fa degli sprazi di classe e poi ha le pause. Invece l'altro, che è tutto un muscolo, che corre, che dovrebbe correre di più. Sì, ma c'ha 24 anni. Sì, sì, ma voglio dire, non ha la classe di Podoschi, è solo potenza, perché fa degli errori banali, poi magari indovina golle. Sì, forse non. Quindi, se vuoi dire, forse non è ancora pronto dal punto di vista fisico. Uno ha giocato pochissime, è Podoschi. Sì, sì. giocatore sulla quale Mancini può far conto. Certo che in una partita come il Torino, se attacchi e continui a girare la palla, però non riesci a fare grandi conclusioni, e poi prendi il gol. L'Inter non ha impegnato praticamente... Al 94esimo, se Padelli non ha mai fatto una parata vera, questo è da dire, ed è uno dei motivi per i quali quest'Inter, anche questa, è in grande sofferenza, bisogna dire. Il gioco del calcio è quello che vuole vincere, bisogna calciare in porta. No, a mio giudizio è diverso, senza fare i tifosi, sono diverse completamente le due crisi e le due sconfitte, parliamoci chiaro. Perché adesso conviene a tutti di mettere tutti un po' nello stesso calderone, hanno gli stessi punti in classifica, ma sono due cose un po' di forenze. No, no, non un po', completamente differenze, anche perché l'Inter, comunque sia, ha un presidente che mette i soldini, che poi li metta oggi o li metta fra qualche tempo, perché tutti i prestiti, la maggior parte sono prestiti con diritti di riscatto, a un anno, un anno e mezzo, quello che sia, vabbè, comunque i soldi li devi tirare fuori. Dall'altra parte non c'è nulla, dall'altra parte c'è lo zero più assoluto. L'Inter ha anche la squadra, chieda più affidamento. Certo, c'è anche i giocatori. Anche più sicurezza in questo momento con Mancini. Diciamo anche la cosa, che ormai è sicuro... Sì, infatti, ci sto dicendo, sono due cose un po' diverse. Ormai è sicuro l'acquisto di destra, però ragazzi, c'è solo quello, eh. Certo. A parte Cerci, che era meglio lasciarlo dove era, ma l'acquisto di destra... Ma invece c'è un altro giocatore, che anche qui se ne parla tanto, che resta Osvaldo dopo quel famoso litigio. L'Inter ormai non lo vuole più, però anche qui... Si pentiranno di Osvaldo. Non lo vogliono dare a Milan, non lo vogliono dare alla Juve. Lui è un stimatore. Eh, infatti, io l'ho visto giocare. L'ho visto giocare. E che avesse la testa diverso. Eh, siamo sempre lì. Cioè, lui vorrebbe andare a Milan o alla Juve. Però questi sono i due nomi. Credo che non siano così autolesionisti la società nero-azzura di portarlo verso... Beh, la Juve non credo proprio che ne abbiamo poi molto bisogno. Eh, ma lo vuole, lo vuole, lo vuole, lo vuole. Sì, perché... Di non portarlo né di qua né di là. Se non riesce a portare Zazza a Torino... Non credo che i tifosi interisti lo prenderebbero molto bene a consegnarlo nelle mani della Juventus o della Milan. E' sempre un rinforzo in più per queste due squadre. Io credevo che Maggio ricomponesse la cosa. Non l'ha voluto ricavare. È stato cattivo. Era così buono. Eh, ma non ha potuto. Si vede che probabilmente non ha potuto quello là proprio, sai. Cioè, non si può arrivare a tutti. Non ho capito cosa va. Io credevo fosse tutto di tigio. Solo con i cardi era un battitetto che ha fatto la pace. Poi non l'hanno più trovato per tre giorni. Anche squadra... Sì, però allora cosa fai? Allora lo rispedisci a casa, lo rispedisci... Lo dai a dove era lui, mi pare che... Non so il tempo, cosa era. Il suo tempo gli dice alla società che ha appartenenza al cartellino di gestirlo... Sì, il problema è che lui va... È che lui non vuole tornare lì. In Italia non vuole tornare. Eh beh, se la... Quando poni il veto... Beh, è venuto, è uscito di stamattina, ho visto le agenzie. Sì, sì, sì. Che l'Inter abbia posto il veto di darlo al Milan. Per qualche riguardo sul tempo. Io l'ho visto fare delle cose... Poi come vanno le cose del mercato non so, ma... Osvaldo, quando è in condizioni, è capace non solo di fare gol, ma di far fare gol facilmente agli... Però una squadra non può avere un giocatore... Ha giocato anche in Nazionale, ragazzi, vi ho ricordato? In Nazionale ha fatto gol, ha fatto fare gol... Ho capito, però... Non è costante, una squadra come il Milan, come l'Inter, come la Sassaco... per questo problema Presidente, in una squadra come il Milan, l'Inter o la Juve non si possono comunque permettere di avere un giocatore con il carattere di Osvaldo che non sai mai quello che può fare questo può essere vero però ci sono degli allenatori che per esempio se fosse Miai l'ho visto l'allenatore, sono convinto che Osvaldo ci farebbe tutto quello che gli dice questo infatti abbiamo visto anche con Conte comunque quando era la Juventus Marco, quindi Osvaldo era molto tranquillo era tranquillissimo ho parlato con Marotta, Osvaldo addirittura il loro gioiello, Erosvaldo sì sì, indubbiamente sul campo non c'è niente da dire è un giocatore che ha una testa matta e purtroppo a Milano dove erano già capitate nel corso della storia altre teste mate e non l'hanno saputo diciamo che non l'hanno saputo gestire visto che siamo quasi in chiusura voglio una cosa, velocissima il Milan ne aveva già avuto i due, Ibrahimovic e Balotelli vogliamo dargli anche il terzo? lo so, vieni tu però il rendimento di Ibrahimovic è stato ho capito, però teste mate bad boys egli siamo in chiusura fammi solo un pronostico per la partita di questa sera niente, sconfitta del Milan e fuori dalla Coppa fuori dalla Coppa e fuori anche Inzaghi se fosse così penso proprio di sì tu Marco invece cosa ne pensi a partita? io penso che vanno ai tempi supplementari vedo questa e poi diventa la classica situazione vedo più una cosa del genere con un pari e poi vediamo sono d'accordo con lui perché ho sentito l'intervista dei giocatori del Milan che ce la metteranno tutta col coltello tra i denti ma anche a Roma sì, avevano detto così va bene egli siamo in chiusura grazie a Dario Oriente per essere stato con noi grazie Marco Basone grazie grazie a Sergio Breghieri grazie a tutti i sportivi grazie a tutti grazie a tutti io vi auguro un buon proseguimento di serata il programma è stato offerto da fare la spesa ti pesa? vorresti farla in modo più veloce e conveniente? scopri drugstore.it collegati al sito e scegli tra più di 5000 prodotti entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia della persona, della casa e degli animali e per te 5 euro di sconto con il codice offerta tv